Sai, tu ci arrivi e te la porti giù, fai il ruffiano, però sai, sii persuasivo, via! Allora, amore mio, mollo tutto e me ne scappo da te azzerino. E sto lì e per quanto tempo stai lì? Io faccio la parte della suocera. Per quanto tempo hai deciso di trasferirti? Massimo tre mesi. Massimo tre mesi, ma in questi tre mesi tu cosa fai? Ci sfami? Porti, ci paghi tutti gli alimenti. Quante sorelle ha a casa tua? Quanti figli sono? A casa tua? Due. Due sorelle, genitori, mamma, papà? Sì, mamma e papà. Eh, cosa vuoi? Per quattro persone, cosa vuoi che sia? Tu hai dei risparmi da parte? Sì, per sì sì. Beh, allora a sto punto, tre mesi della tua vita, è come giocare, che ne so, il Super Enalotto, lì glieli dasci tutti e te la porti giù, è l'unico modo per coinvolgere e per convincerli. Oggi gira tutto sul sentimento. Ok, allora caro amico mio, io ti ringrazio, c'è una canzone che vuoi vedere? Sì, Uomini di gomma degli Studio 3. Quale, quale? Uomini di gomma degli Studio 3. Ok, dedicata a chi? A Jack di Uomini e Donne? No, no, alle mie nipote e alle mie sorelle. Ah, perfettamente. Ciao nipotine, aspetta che le voglio vedere, sono vicine a te? No, non sono vicine a te. E dove sono? In quale casa? Sempre a Nocera? No, sono a Montalto Fugo. Noi arriviamo anche lì. Ecco, vedo, vedo le tue nipotine. Ciao nipotine, ciao, come state? Lo zio se ne va a Torino. Ah, siete contenti? Il problema è che non ci rimane per sempre, poi scende giù. Poi tua sorella come si chiama? Rosanna. Rosanna, Rosanna. Cosa vuoi che siano? Tre mesi senza un fratello, tre mesi di gioia. Quindi, tranquillamente, no, scherzo. Ovviamente io vi mando un grande salutone, però non dimenticate una cosa, che la forza della famiglia è la cosa più importante del mondo. È vero? Ok. È come la forza dell'amore. Mi sento molto Paolo Vallesi in questo momento. Oh, mettiamo, mandiamo un bel video. Annunciamela tu, è quella dei Queen. Show must go on. Lo spettacolo va sempre avanti, a prescindere da chi ci sia. Dillo. Oh, beh. La prossima è The Show must go on. Vai. La prossima è Show must go on. Ho capito, sì. Questa non è i jukebox, ma è affari tuoi. Ok. A dopo, ciao. Ciao. La prossima è la prossima. 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 Uno slogan per quelli che devono continuare. La vita va avanti anche senza. Lo spettacolo non si ferma. Può chiudersi il sipario, può non esserci più quell'attore, ma la recita si deve fare lo stesso. Mi dicevano così a scuola. E' la prossima è la prossima. È la cosa che si dovrebbe pensare nella vita, anche se certi affetti, certi ricordi sono indelebili e non c'è niente che li possa cancellare. Io non riesco per esempio a cancellare nessuno quando è in linea Pronto? Pronto, pronto, però si cancellano da soli Sarà che hanno una gomma particolare, loro non so che tecnico si ha Pronto? Pronto Pronto, buonasera Ciao Come stai? Valeria Come ti chiami? Valeria Valeria, già dalla voce mi sembri la più brava bambina del mondo Aspetta un attimo che voglio vederti bene E aspetta ancora che voglio fare un'altra cosa per te Proprio perché sei troppo brava Voglio pettinarmi bene perché Abbasso un filino il televisore perché se no non riesco a sistemarmi bene Ok? Dimmi se i capelli vanno bene Ti piacciono? Ok, vuoi che ti presti il mio pettine? Che dici? Eh? Sì Ok, te lo porto a casa E dove sei tu? E io sono Valeria Sì, ma di dove? Di dove? Avrai un paese che è il tuo paese? Catanzaro Catanzaro, da qua vicino 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 No Siamo proprio qui, ci sono i tuoi genitori di là? Sì Eh, facciamo un bel ciao per tutti gli amici di iJuBox Un ciao collettivo Tutta la famiglia Cara famiglia, come fate il cognome? Eh, noi chiamo Graziano Allora, famiglia Graziano Un ciao per chi ci guarda Vai! Grazie No, sì Grazia e Graziano Però senza dire ciao Io non posso dirvi grazie Ok, te lo dite mia sorella No, tutte e tre Tutte e tre Quanti siete? La mamma lì? Il papà è lì? Tutti lì? No, sono mia sorella Ok, ditelo in due I Graziano Stanno per dirci ciao Via! Ciao Ciao Ciao, sorella e Graziano Volete mandare dei salutini? A chi? A tutte le nostre compagnie di scuola Eh, veloce, dai Ditemi un po' di nomi Un po' di nomi Sono la sorella La sorella Ok, saluti, saluti Sono tutta una professoressa Allora, la tua professoressa che si chiama? Eh, la professoressa Aguglia Ah, la professoressa? Aguglia Aguglia, come il pesce Carina E di dove è la professoressa? Eh, di sempre il calendario Professoressa Aguglia Ottimo, eh Una professoressa Da pescare A tutte le altre professoresse E poi a tutte le professoresse Ditemi solo il nome della vostra scuola E che classe fate Vi saluto velocemente, vai Mi passo mia sorella Sì, perfetto Che classe fai? Prato Ciao, che classe fai? Ciao mia sorella Sì, ho capito Io sono entrato proprio in confusione Ma io sono Valeria Ok, io sono Michele L'altra? È Arianna Arianna, ok Ok, Valeria Che classe fai? Io da qui Ciao Alla prima media Ok, siete Proprio lì Qual è la canzone? Sì Ti scattiamo la foto Di Tiziano Ferro Aspetta un attimino Avvicinati, eh Metteteli in posa Metteteli in posa Tutte e due Vai Sorridete Che bella foto Grazie 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 Cosa? Ciao 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 Pronto chi c'è? Pronto Pronto Buonasera Con chi parlo? Buonasera Danilo Da L'Europoli Da dove? L'Europoli Un paesino in provincia di Cotento Ah, bene Sai, Cosenza Si fa viva spesso da queste parti, eh E come hai detto che si chiama? L'Europoli L'Europoli E si trova dove? Vicino al paese della nostra amica Mirto O dall'altra parte? Pronto? Pronto, pronto, pronto Eh, L'Europoli Proprio perché è un bel paese C'è ancora C'è qualche altro in linea Pronto? Cade uno Arriva l'altro Pronto? Pronto? Si, pronto Sono qua Eh, ciao Sono Valeria Ciao Valeria Ma non quella di prima Sono un'altra persona Da dove chiami? Di dove sei? Dalla Mezzia Dalla Mezzia Quindi chiami Dalla Mezzia Quindi ho detto la stessa cosa E fammi capire Fai ancora la scuola? Tu vai a scuola o? No, no Ho finito Hai finito la scuola Ti ricordi il tema di prima? Sai, il calendario di Giovanotta Vuoi che te lo diamo? Possiamo regalartelo Te lo mandiamo a casa? No, no Non ti preoccupare Grazie all'aspetto Ti posso dare il calendario Però per chi è venuto adesso Ce l'abbiamo negli studi Tra un pochino Per i saluti Arriverà Ricky Martin Abbiamo quello di Ricky Martin